Siamo con Manuele Mogliè, oggi avete vinto 5 a 4, un gol, partita la tua difensiva, anche un assist. Prima domanda, raccontaci come è andata tra il primo e il secondo tempo. È stata una partita tosta, chiaramente nel secondo tempo è uscito fuori il loro ritmo, che è una cosa che noi purtroppo soffriamo, loro l'hanno messa sull'intensità, siamo stati bravi a indirizzarla bene nel primo tempo e siamo riusciti a portare la vittoria a casa. Siete partiti da un 4 a 0, poi vi siete fatti ricordare due gol, poi cosa è cambiato? Alla fine del primo tempo, qual è stata la strategia per portare immediatamente la partita su 5 a 2? È cambiata la testa nostra, abbiamo sbagliato, abbiamo sottovalutato l'avversario, che infatti poi alla lunga è uscito fuori e abbiamo sbagliato sotto l'aspetto dell'intensità, è uscita la loro intensità e quindi poi l'abbiamo sofferti. Quindi bravi noi, anche fortunati nell'indirizzarla anche nel secondo tempo e poi alla fine è stato ottimo portare a casa il risultato. Allora, ti facciamo i complimenti, hai toccato al primo tempo un pallone, l'hai messa immediatamente dentro, poi un grande assist per Dionisi, molti movimenti e allora in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Grazie. Grazie.